Siamo qui con l'allenatore della Nazione dei giornalisti, capo redattore economico di Radio Rai. È stata, non so se lo vedete, non abbiamo più le coppe perché si è giocato l'ultima partita. È stata vincente, finita ai rigori, estenuanti rigori, però è stata una bella mattinata di sport. È stata una bella mattinata di sport, come è stato ricordato con la speranza del Natale che sta per arrivare. È una speranza che ci vuole come non mai dopo un anno e mezzo di pandemia. Forse ne stiamo uscendo fuori, però ancora c'è molto da fare. Però con saggezza e lungimiranza sicuramente ne usciamo fuori. La festa di oggi, al di là di chi è arrivato primo, secondo o terzo, è stata importante. E ovviamente ci auguriamo che ci sia anche il prossimo anno. Assolutamente, sempre per veicolare questi messaggi tramite lo sport, è un po' anche il nostro obiettivo. Tramite lo sport, grazie agli amici della sicurezza sul lavoro, per un tema che, come è stato anche in occasione della partita fatta alla Borghesiana, è un tema quanto mai centrale. Purtroppo ancora ci sono vittime, tante, per incidenti sul lavoro. Noi siamo qui come operatori dell'informazione per far sì che, comunque, con il nostro contributo, si possa attenuare questa piaga. E quindi grazie, grazie di essere stati invitati a questo evento. Assolutamente. E noi ringraziamo lei. Grazie.